Ben ritrovati con la nostra informazione in primo piano la cronaca tragica mattinata a Sezzadio dove ha perso la vita un motociclista che per cause in corso di accertamento si è scontrato con una vettura intorno alle 8. Lo schianto è avvenuto sulla provinciale che collega Sezzadio a Castelnuovo Bormida. Il centauro di cui non sono ancora state rese note le generalità è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei medici del 118. E' invece stata riaperta da poco la provinciale che collega Castelnuovo Scrivia a Tortona interessata da un incidente stradale avvenuto verso le 7.30. Il sinistro è apparso subito molto grave agli occhi di chi stava percorrendo quel tratto di strada ma fortunatamente il bilancio non registra vittime in fin di vita. Secondo le prime ricostruzioni sono rimasti coinvolti un camion con rimorchio che trasportava mais e due vetture. Tre le persone ferite, due in modo lieve mentre una terza trasportata con l'elissocorso ha riportato fratture e contusioni varie guaribili in un mese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona e i soccorritori del 118. Paura a Littaparodi, soborgo di Alessandria, per il parziale crollo di una trunera. Le caratteristiche case in terra battuta che hanno fatto di quella zona il luogo di maggiore concentrazione per il piacere di turisti e storici. Caratteristiche che di certo non sono in linea con gli abitanti del posto, i quali ormai da tempo si lamentano per la pericolosità di queste case disabitate da anni e che proprio a causa della mancata manutenzione rischiano di cadere a pezzi. In via Lodi, nel cuore della Fraschetta, la parte della dimora secolare che è caduta si è adagiata sul cortile interno di un'abitazione, con grande malcontento della signora che vi abita e che attualmente si trova alla zona transennata. Nell'autunno scorso si era verificato un altro episodio e anche in quell'occasione, per fortuna, non ci furono dei feriti. Gli abitanti del soborgo hanno già raccolto delle firme e presentato una denuncia affinché le trunere vengano abbattute, ma al momento non vi è stata nessuna risposta. Cambiamo argomento. Condannato in abbreviato a 14 anni il fratricida di Tortona. Spero di tornare a casa prima di morire. Queste le uniche parole pronunciate da Carlo Garrone, l'agricoltore 74enne di Tortona che lo scorso 17 settembre ha ucciso con quattro fucilate la sorella Michelina, 69 anni, maestra elementare in pensione, che lo angariava da sempre. Processato in abbreviato dal gruppo Stefano Moltrasio, è stato condannato a 14 anni di reclusione. 18 proposti dal PM Giancarlo Vona per omicidio volontario aggravato dal grado di parentela con la vittima. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, ma non quella della provocazione, come chiesto dai difensori Francesco Casarin e Nicola Gentile, che stanno valutando per ottenerla se ricorrere in appello. Cercano anche di trasferirlo dal carcere a una comunità. Il rapporto conflittuale fra i due fratelli che vivevano alla cascina pachisano, divisa in due proprietà identiche, una di fronte all'altra, è stata sottolineata dallo stesso PM. Poiché Garrone ha sempre detto, senza sottrarsi alle proprie responsabilità, di non ricordare nulla di quei momenti come per un blackout mentale, è stato sottoposto a pripsia psichiatrica e riconosciuto sano di mente. I due fratelli erano in guerra da sempre, ma era lui la vittima di innumerevoli dispetti. Me ne ha fatti per 40 anni, con l'aggiunta di cause civili contro di me, disse Garrone quando fu arrestato dai carabinieri, da lui stesso chiamati dopo la mortale sparatoria. La goccia che fece traboccare il vaso fu una frase pronunciata da Michelina Garrone quel 17 settembre. Vedendoli in cortile gli urlò, esci dalla mia proprietà bastardo. E lui, imbracciato il fucile da caccia, fece fuoco. Preoccupano le cifre di chi si affida al gioco d'azzardo con la speranza di poter guadagnare qualche soldo. Il fatturato nel nostro paese è pari a poco meno di 90 miliardi. In pratica è come se ogni italiano spendesse 1.400 euro all'anno per tentare la fortuna. La giunta regionale, su proposta dagli assessori alla sanità Antonio Saite e all'istruzione Gianna Pentenero, ha approvato il disegno di legge per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. In Italia il fenomeno è rilevante, come riportano le statistiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla quantità di denaro giocato. Il fatturato in Italia nel 2011 è stato di 79,9 miliardi, di 86 miliardi nel 2012 e di 87,4 miliardi nel 2013. La spesa negli ultimi anni si attesta a poco meno di 90 miliardi. In pratica è come se ogni italiano spendesse 1.400 euro all'anno per tentare la fortuna. L'impatto sul PIL è passato dall'1,6% del 2001 al 6,5% del 2013, raggiungendo quasi l'equivalente del costo complessivo del Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro paese ha in assoluto la più alta densità di slot machine di ogni tipo, una ogni 143 abitanti. La stima di persone con problematiche da gioco d'azzardo patologico è estremamente difficile a causa della variabilità dei criteri diagnostici e del non riconoscimento del problema da parte di chi ne ha coinvolto. La patologia rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Piemonte, dice l'assessore Saitta, la raccolta ha raggiunto 5,1 miliardi nel 2012 per stabilizzarsi a 5 nel 2013. A questi costi vanno associati quelli sociali legati all'impatto del sulle famiglie, gli interessi economici da parte delle criminalità e i possibili reati commessi da giocatori patologici, come ad esempio i reati di falsificazione, frode, furto, appropriazione in debita e poi ancora i costi sanitari della presa in carico per la cura dei giocatori e quelli derivanti dall'impatto negativo sull'economia e sul mondo del lavoro. Il fenomeno del gioco interessa anche il mondo giovanile, nonostante sia espressamente vietato ai minori di anni 18, con una percentuale stimata in circa l'8% nella popolazione tra i 15 e i 19 anni. In Piemonte i casi conclamati e quindi presi in carico dai servizi che in ogni azienda sanitaria si occupano delle dipendenze sono in prevalenza uomini, con una media di soggetti a rischio più alta di quella nazionale. Nel 2013, ad esempio, sono stati trattati 1.234 soggetti per gioco d'azzardo patologico. Sono quasi uno su tre i commercianti piemontesi che non emettono lo scontrino. I controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nel 2014 hanno evidenziato una percentuale di mancata emissione del 31,3% su oltre 31.000 verifiche. Il dato emerge dal rapporto annuale sull'attività delle fiamme gialle. Ce ne parla Roberto Monteriso. L'allergia agli scontrini prosegue così l'Italia non guarisce dall'evasione e si calcola che sono quasi uno su tre quelli non emessi anche se il trend pare in leggera discesa. I controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui commercianti piemontesi nel 2014 hanno evidenziato una percentuale di mancata emissione del 31,3% su oltre 31.000 verifiche. L'anno precedente, quando gli accertamenti erano stati 26.000, la percentuale era stata del 31,5%. Il dato emerge dal rapporto annuale sull'attività della Guardia di Finanza in Regione. Cresce poi del 19% il lavoro sommerso. I controlli della Guardia di Finanza nel 2014 hanno portato a scoprire 521 lavoratori in nero e 299 irregolari per un totale di 820 infrazioni e 275 datori di lavoro denunciati. L'anno precedente ci si era fermati a 490 lavoratori in nero e 197 irregolari. Si è invece arrestato, dopo il boom del 2013, il fenomeno dei falsi poveri che usufruivano di contributi e agevolazioni erogati da enti pubblici senza averne diritto. Si è passati da 566 ad appena 28 persone individuate. Redditi imponibili recuperati a tassazione per 2,3 miliardi di euro più 43% rispetto all'anno precedente. Nel corso di 6.300 controlli a imprese e contribuenti, 735 autori di reatti fiscali individuati e denunciati, di cui 5 arrestati e 391 evasori totali scoperti. Per quanto riguarda i controlli sulla spesa pubblica, lo scorso anno le fiamme gialle piemontesi hanno scoperto frodi comunitari e nazionali per 56 milioni di euro e accertato danni erariali per 48. Ammontano infine a 123 milioni i beni complessivi sottratti alle criminalità, 31 sono state le persone denunciate per riciclaggio, 9 per usura, di cui una arrestata, 155 quelle denunciate per reati societari e finanziari. Nel 2014 inoltre sono state sequestrate 57 tonnellate di oli minerali destinati ad usi agevolati, 598 tonnellate di tabacchi, 906 chili di sostanze superfacenti, con la denuncia di 141 responsabili, di cui 53 arrestati. Parliamo ora di una bella iniziativa che ad Alessandria ha unito l'arte culinaria alla beneficenza. Sentiamo. Quanto è buono il gusto della solidarietà, soprattutto se a preparare niente meno che gli arancini siciliani e altri prelibati dolcetti sono stati i cuochi della casa di reclusione di San Michele di Alessandria. Collocati con cura sul sagrato della chiesa del soborgo, mentre il parroco Donivo Piccinini diceva messa, i piatti sono stati proposti ai fedeli all'uscita della funzione religiosa. Le offerte raccolte dalla Caritas, che sta finanziando il saporito progetto, saranno destinate a coloro che in carcere hanno bisogno di tutto. Quello predisposto davanti alla chiesa di San Michele, grazie al supporto della cooperativa Company E e dei volontari di Betel, è stato un assaggio dell'invito alla cena che presto sarà organizzata nel bocciodromo della parrocchia per consentire alle autorità cittadine e a quanti vorranno partecipare di sperimentare direttamente le arti culinarie e le potenzialità della squadra di ristoratori che da alcuni anni sta affinando le proprie doti per assicurare all'interno del carcere una migliore qualità della vita e anche per costruire una professionalità completa da spendere all'esterno a servizio della collettività. Lo stesso Don Ivo ha ricordato come il carcere di San Michele creda nella responsabilizzazione della persona detenuta e che essa sia possibile solo attraverso la sperimentazione dell'incontro con la normalità della vita libera. L'accoglienza sincera e l'impegno profuso, ha affermato il sacerdote, sono gli ingredienti essenziali affinché il risultato sia vincente e perché il carcere sia davvero un luogo di rinnovamento. Imu e Tasi al centro del dibattito nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di Novi Ligure. Enrico Marià. L'approvazione delle aliquote Imu e Tasi per l'anno 2015 ha aperto l'ultima riunione del Consiglio Comunale di Novi Ligure. Il documento ha ottenuto 11 voti favorevoli dai consiglieri di maggioranza e sei contrari, quelli del Movimento 5 Stelle di Forza Italia-Lega Nord e del Movimento Civico Popolare per Novi Maria Rosa Porta. Dopo aver confermato che verranno mantenute le stesse aliquote applicate nel 2014, l'assessore al bilancio Simone Tedeschi ha annunciato una novità importante sulle modalità di pagamento delle due imposte, e cioè l'approvazione delle aliquote rispetto al bilancio di previsione. In questo modo gli uffici comunali avranno il tempo necessario per effettuare calcoli dell'imposta. Quest'anno quindi i contribuenti che in passato si sono rivolti all'ufficio Tributi riceveranno direttamente a casa il modello F24 già compilato. Visti gli ulteriori tagli annunciati nei confronti degli enti locali, aggiunto il sindaco Rocchino Muliere, aver mantenuto l'aliquote dell'anno scorso è sicuramente un fatto positivo, così come l'invio degli F24 che riguarderà circa il 60% dei contribuenti novesi. La discussione è proseguita con l'argomento che ha praticamente monopolizzato la seduta, vale a dire l'approvazione dell'indirizzo e dei criteri operativi per l'applicazione della legge 106 del 2011, la norma che ha introdotto a livello statale delle misure volte ad incentivare le operazioni di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana. L'assessore all'urbanistica, Maria Rosa Serra, ha illustrato il testo del documento, le cui finalità sono quelle di incentivare la ripresa edilizia, coniugando l'interesse pubblico e privato e agevolare la riqualificazione di aree urbane e degradate, anche favorendo lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Per gli interventi edilizi di razionalizzazione e riqualificazione effettuati nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, sono previste delle deroghe. Inoltre, sono state individuate varie tipologie di interventi per le quali non sarà possibile applicare la normativa. Dopo la fase istruttoria, l'istanza dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, che entrerà nel merito del progetto proposto e potrà eventualmente modificare o non accogliere l'intervento. L'Assemblea ha poi esaminato una serie di emendamenti presentati dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Delle dieci proposte di modifica, cinque sono state respinte, in quanto le stesse erano in contrasto oppure già ricomprese nel testo elaborato in sede di Commissione. Accolte, integralmente o in parte, le altre cinque. Il documento finale è stato approvato con 13 voti favorevoli, quelli dei gruppi di maggioranza e dei consiglieri Bertoli e Cucuru, e quattro contrari, il gruppo Movimento 5 Stelle e il consigliere Porta. Tre minuti con Maurizio Silvestri, che è andato nel piccolo comune di Parodi Ligure, alluvionato lo scorso inverno e in attesa di fondi per ripristinare i danni subiti. Sentiamo. Allora, questi tre minuti li dedichiamo qua a Parodi Ligure, o qua al signor Sindaco, all'On. Federico Fornaro. Oggi noi siamo qui per parlare di cosa, onorevole? Siamo venuti col consigliere regionale Valtero Trias, su invito del Sindaco, per sentire le buone ragioni, le lamentele, le critiche di una piccola amministrazione, che però è stata al centro dell'alluvione dell'autunno scorso, e che quindi pone giustamente l'accento sulla necessità che si facciano rapidamente gli interventi per la messa in sicurezza e trovino le risorse per pagare evidentemente i danni anche ai privati. Non sarà semplice e ci stiamo lavorando. Comunque questo è stato anche un momento per vedere di persona sia i danni e sia anche ascoltare, come dicevo all'inizio, le loro buone ragioni. Sa che noi qua siamo stati danneggiati tantissimo, soprattutto nei paesi qua vicino, quindi come dicevamo col signor Sindaco, noi dobbiamo fare una priorità, dobbiamo andare da quello che è stato più danneggiato e piano piano c'entra giù. Questo sì, il tema vero è che in questo momento il fondo di solidarietà nazionale è azzerato, perché ci sono state molte calamità e quindi bisogna lavorare quest'anno per aprire le risorse. Come dicono a Genova, parla anche delle poche, è un tema vero? Eh, così dicono a Genova, perché noi stiamo sotto l'influente genovese, però come diceva prima il senatore, come diceva anche il consigliere Autria, diciamo che l'impegno da parte loro e anche la disponibilità c'è e questo naturalmente è una cosa importante anche per noi come amministrazione. Adesso io faccio una domanda da cittadino al consigliere. Consigliere, mi scusi, ma molta gente dice che è inutile fare la domanda, intanto qui parla anche e non ce ne danno mai. È vero o no? Beh, sì, questo è un po' quello che sembra l'andazzo di questi tempi, però credo che questo non debba diventare un alibi per non progettare comunque qualcosa di concreto, perché altrimenti questo diventa anche appunto una via di fuga per togliersi delle responsabilità. Invece io credo che noi dobbiamo andare nel mero, entrare nel mero, andare a vedere appunto, verificare, ascoltare e rendersi conto e dopodiché in maniera anche equa e corrispondente alla situazione reale cercare di intervenire per quanto possibile, sapendo che i problemi finanziari e le risorse ci sono, ma dobbiamo assolutamente fare un piano di interventi, messi in manutenzione nel territorio assolutamente, è una priorità. Ok, allora noi ci teniamo sempre informati qui su 7 Gold e continueremo a sentire, poi il sindaco ci dirà, sì, abbiamo ottenuto qualche risultato e quindi noi vi terremo sempre informati. Signor sindaco, come rimaniamo con i cittadini? Ecco, i cittadini rimaniamo con i problemi che abbiamo sul territorio, ahimè, e con l'impegno naturalmente, ripeto di tutti, per cercare di risolverli. Purtroppo, come si dice, non è così semplice perché i problemi sono essenzialmente finanziari e questo è un periodo dove i problemi finanziari, come tutti sappiamo, sono difficili da risolvere. Tuttavia credo che l'impegno ci sia tutto e quindi contiamo che ovviamente prima possibile si possa rimediare i danni che ci ha lasciato sul territorio questo evento veramente calamitoso. Grazie e con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti e rimanremo sempre pregiornati qui da Parodi Libri. Cambiamo ancora argomento, tra due e venerdì partirà Floreale, sarà la sesta edizione e trasformerà i giardini pubblici di Alessandria in una specie di piccola Sanremo. De De Vinci. Per tre giorni, a partire da venerdì 24, ad Alessandria esiterà Floreale 2015. La città sarà quindi invasa ancora una volta da fiori e non solo, anche da tutta una serie di iniziative collaterali. Ci saranno sfilate di moda, con in particolare il Museo della Gamberina e quella degli abiti d'epoca, ma ci saranno anche le auto d'epoca, quelle del circuito bordino che gireranno per le vie del centro. Ancora passeggiate in bici, qualche volta studiate per i bambini, con i circuiti organizzati dagli amici della bici. E poi le bancarelle di Procom, che stavolta saranno super selezionate. La sesta edizione di Floreale sarà inaugurata alle 17.30 di venerdì 24 e per tutto il fine settimana, fino a domenica 26 aprile, i fiori saranno protagonisti. Ma proprio a domenica, tra l'altro, è stato deciso di organizzare la tradizionale processione della salve, Con Floreale 2015, Alessandria evocherà più la riviera dei fiori che le pianure padane. Sarà colorata da piante e fiori di ogni genere e saranno infatti ben 60 i florovivaisti che allestiranno l'area dei giardini pubblici in maniera spettacolare. E come ha sottolineato il sindaco Rita Rossa, sarà un buon inizio per un restyling dei giardini pubblici, così come ha approvato in questi giorni il piano della giunta comunale. Ma sarà anche un'occasione di rilancio del commercio alessandrino. Floreale, come sempre, attrerà molti turisti e sarà la degna conclusione di un'iniziativa più ampia chiamata Primavera Alessandrina, già iniziata da qualche giorno con vie e vetrine della città allestite a festa. E anche con i concerti di Cristina Donà al Teatro San Francesco e ancora della Thomas Band in Piazza della Libertà, oltre alla banda fraudolenta che ha animato durante il giorno tutte le vie del centro. Per chi volesse scoprire Alessandria, adesso si può usufruire anche della visita guidata della città by Alexala. Ci sarà anche un live wall, uno schermo gigante, su cui scorreranno i commenti, sui social e la diretta streaming. Floreale inizierà venerdì 24 al pomeriggio, ma il 25 e il 26 aprile sarà aperta dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito. Pagina sportiva interamente dedicata al basket, quella di oggi, nel campionato di A2 Silver. L'Orsi Dertone è stato sconfitto nettamente dalla capolista Treviso per 86 a 58 nella perultima giornata di un campionato dal bilancio comunque positivo per i tortonesi, neopromossi in Serie A e attualmente al settimo posto. Nel servizio che vedremo tra poco vedremo invece l'intervista rilasciata dal tecnico della junior Casale Ramondino al termine del derby di A2 Gold disputato al Pala Ferraris tra i Monferrini e Torino con gli ospiti che hanno vinto per 82 a 73. Conclusa la regular season al quarto posto, per Casale adesso ci sarà la possibilità di lottare per la promozione in Serie A1 negli spareggi playoff. Il servizio poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito e viaguarda il nostro canale. Grazie per averci seguito e viaguarda il nostro canale. Grazie per averci seguito e viaguarda il nostro canale. Grazie per averci seguito e viaguarda il nostro canale.